ma è stato. no no o non ho la gara i soldati e profondità di lanciarci andrò andrò in cina accanto andrò canta tu poco c'è da giugno è cazzo le profondità guarda 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 non ho finito non posso vivere in giugno oh fausto are you are non ho finito non ho finito non ho finito non ho finito i pensi che i nostri amici d'altro i pensi che ho finito e Posso bucare Entrare in qualche Logo inaccessibile Usando sto trucco Le palle Non riesco a farvi Per che cazzo non mi scarica Discord A posto C'è un problema È in video Alcuno di voi Qualcuno di voi Ha il file di installazione Di Discord Che potrebbe mandarmelo in qualche modo Perché dal sito ufficiale di Discord Non me lo fa scaricare Derrore Me la blocca Operazione non riuscita Dal sito ufficiale Dal sito ufficiale Ma proprio non te lo fa scaricare il cliente? Dal sito ufficiale il cliente Dal sito ufficiale il cliente